Ciao Linnia! Dobbiamo battere le mani! Ho un locale bistro. Mi piace descriverlo un bistro perché dando diversi servizi dalla colazione all'aperitivo fino alle sette e quindi dando comunque da mangiare. Quindi dalla pasta ai dolci. Diciamo che è una produzione artigianale. Da cosa è nata questa idea? Della voglia di uscire dallo schermo della ristorazione classica. Insegnare alle persone che si può mangiare meglio. Quindi sono nata a fare le crepe. Sono in casa mia, ho preso la piastra e ho cominciato a maneggiare e inventare le mie ricette. E così ho creato Cocotte. Rispettare chi entra in casa tua perché comunque sia questo locale è casa mia. E chi entra in casa mia è il mio ospite e gli ospiti devono essere trattati bene. Io voglio essere un esempio. Un esempio per tante donne. Voglio sì che facendo, non so, io ho dei progetti futuri, tipo aprire un altro locale. Mi chiamo Lilian. Il mio sogno nel prossimo futuro sarebbe creare un ristorante con la differenza. Perchè, non so,